La voglia di vacanza si fa sentire, ma prima di raggiungere il tanto desiderato relax sono in molti a dover affrontare un ultimo sforzo, quello del viaggio in auto. In autostrada questa mattina si viaggiava a velocità ridotta, nel secondo fine settimana da Bollino Rosso. Code nel tratto piacentino dell'A1 all'altezza dello svincolo con la Parma La Spezia e code anche in autogrill per la sosta. L'area Arda Ovest era indicata in mattinata dal sito della società autostrade come sovraffollata. Chi è rimasto a casa si è risvegliato sotto un cielo autunnale che lo ha costretto a riesumare dall'armadio felpe e sciarpe e ad aprire l'ombrello in alcuni casi. Una boccata d'ossigeno dopo il caldo insopportabile delle scorse settimane, chi si lamenta lo farà per poco, visto che l'estate tornerà lunedì con una nuova ondata di caldo. Un'alta pressione africana raggiungerà il nostro paese già dal pomeriggio di domani e lunedì raggiungerà il nord Italia e il piacentino per rimanere diversi giorni. Bisognerà attendere la seconda settimana di agosto per cominciare a respirare aria più fresca con il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre e il conseguente avvio di una fase estiva più moderata accompagnata dal passaggio di qualche temporale.